Quando pensiamo al mercato invernale della Lazio non c'è molto da sorridere, ci ricordiamo tantissimi flop, pochissimi colpi riusciti. Eppure nella gestione Claudio Lotito ci sono stati alcuni colpi, alcuni giocatori presi a gennaio che hanno fatto molto molto bene e ne parliamo in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove ogni giorno caricheremo almeno due nuovi video sulla Lazio. Quindi se sei un tifoso bianco celeste, simpatizzante o vuoi semplicemente essere sempre aggiornato su Lazio, ti consiglio di iscriverti al canale e soprattutto di cliccare la campanella, perché molti di voi sono iscritti ma non cliccano la campanella e quindi non ricevono la notifica ogni volta che carico un nuovo video. In questo video un po' speciale parliamo dei 5 migliori acquisti fatti dalla Lazio nel mercato invernale. Nel mercato invernale purtroppo Claudio Lotito ha spesso fallito, ha spesso comprato giocatori che non solo non si sono rivolati utili ma sono stati un mezzo disastro. Però per fortuna nella lunga presidenza Lotito ci sono stati almeno 5 acquisti a gennaio che invece hanno avuto un impatto molto importante e vedimento in questo video in ordine secondo me di successo con la maglia bianco celeste. Partiamo al quinto posto da un giocatore che io ho apprezzato tantissimo, parliamo di Andre Diaz. Il brasiliano, difensore centrale, arrivò alla Lazio nel gennaio del 2010 pagato 2 milioni e mezzo di euro dal San Paolo, squadra brasiliana. Quello fu un anno particolare per la Lazio, non so se ve lo ricordate, ma nel 2010 la Lazio era in grande difficoltà e pensare che la stagione era partita benissimo perché la Lazio di Ballardini aveva vinto a sorpresa la Supercoppa italiana battendo a Pechino la corazzata di Murigno, l'Inter di Giuseppe Murigno che aveva appena vinto il triplete. La Lazio vinse quella partita a inizio stagione e tutti pensavano sarebbe stata una stagione fantastica. Invece la Lazio a gennaio si ritrovò addirittura a lottare per non retrocedere e per la prima volta Lotito fece un calcio mercato infernale da protagonista perché arrivò Andre Diaz che in primi sei mesi la Lazio in realtà non andò benissimo, ma dopo, capito il calcio italiano, è stato uno dei difensori centrali più forti della storia di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Non solo bravo in fase difensiva ma ha anche contribuito in fase offensiva con un numero importante di gol di testa, per cui secondo me Andre Diaz è il quinto miglior acquisto della Lazio nel mercato invernale. Al quarto posto metto un altro difensore comprato nella sessione invernale del 2010 e parlo di Biava. Biava è uno dei difensori forse più sottovalutati della storia della Lazio, arrivato anche lui a gennaio 2010, lui dal Genoa, non da San Paolo, fece coppia fissa, possiamo dire, con Diaz per tanti anni alla Lazio, vinse anche la Coppa Italia del 2013 da titolare. Biava ha avuto un impatto, a differenza di Diaz, subito con la Lazio, positivo, era diventato subito titolare e lui fece bene e fu uno dei motivi per cui la Lazio ne un retrocesse quell'anno. Biava ha avuto una performance, secondo me, molto buona con la Lazio, era famoso per i suoi anticipi sull'attaccante, secondo me è stato uno dei migliori difensori della Lazio e uno dei migliori acquisti della Lazio nel mercato invernale. Al terzo posto metto Antonio Candreva, Candreva è arrivato nel gennaio del 2012 in prestito dal Cesena. Ecco, la situazione di Candreva è particolare. Perché? Perché Candreva veniva da un momento veramente poco felice. Lui era di proprietà dell'Udinese che ne girò metà del cartellino al Cesena. Anche al Cesena Candreva faceva fatica, la Lazio aveva bisogno di un esterno e a gennaio andò a prendere metà del cartellino del giocatore dal Cesena e dando in cambio al Cesena del Nero, uno degli acquisti che purtroppo nella Lazio non fece bene come si auguravano. Candreva, un po' come Dias, i primi sei mesi della Lazio non andarono benissimo, anche se fece intravedere qualcosa di buono. Poi ha ingranato la marcia ed è diventato un giocatore fortissimo, tant'è che con la Lazio conquistò la Nazionale. Poi, un po' di anni dopo, anche per colpa di Stefano Pioni, lasciò la Lazio per andare all'Inter. Ma Candreva non solo è stato uno dei protagonisti del 26 maggio ma è stato un giocatore che con la Lazio ha fatto molto bene. Tanti gol pesanti, ottime prestazioni e per questo, secondo me, è stato uno dei migliori giocatori acquistati nel mercato invernale dalla Lazio. Al secondo posto, probabilmente, creerò un po' di polemica ma io metto Stefan Radu. Radu, arrivato nel gennaio del 2008, giovanissimo dallo Steau a Bucharest, era arrivato per fare il difensore centrale. lui, giovane, faceva difensore centrale alla Dinamo Bucharest. Ma, in realtà, la Lazio lo praticamente subito dirottò a tersino sinistro. Nessuno poteva immaginare che Stefano Rado avrebbe battuto tutti i record di presenze con la maglia bianco-celeste. Ogni anno lo davano in panchina, ogni anno Stefano Rado partiva titolare. Non solo, ma, ripeto, Rado arrivato giovanissimo alla Lazio in prestito. La Lazio lo riscattò pochi mesi dopo, per un milione e mezzo, dalla Dinamo Bucharest. Rado doveva fare il difensore centrale per esigenze, divenne tersino sinistro e bisogna dire che in quel ruolo ha fatto molto bene. Poi, quando arrivò Simone Inzachi e passò alla difesa a tre, Rado divenne il braccetto di sinistra della difesa a tre di Simone Inzachi e fece molto, molto bene, bisogna dire, Stefano Rado che si è ritirato, come sapete tutti, nel 2023 dopo aver fatto 349 partite con la maglia della Lazio e segnato cinque gol. Secondo me, Stefano Rado è stato il secondo migliore acquisto della storia di Claudio Lutito nel mercato invernale. So che qualcuno lo metterà al primo posto, io metto Rado al secondo. E quindi al primo posto chi metto? Beh, secondo me, al primo posto va messo Stefano Mauri. Mauri che arrivò nel gennaio del 2006 in prestito dall'Odinese, fu riscattato, poi, sei mesi dopo, per 3 milioni e 100. Stefano Mauri è un giocatore che alla Lazio è rimasto fino a fine carriera e soprattutto ha avuto un impatto devastante con il calcio. Mauri è un altro di quei giocatori che secondo me è stato sottovalutato tantissimo. Invece era un trequartista moderno, un trequartista che veramente ha cambiato la Lazio perché era un trequartista bravissimo ad inserirsi, ha fatto tantissimi gol a Stefano Mauri ma allo stesso tempo faceva tanti assist per gli attaccanti. Mauri ha saputo adattarsi ai vari cambiamenti fatti dalla Lazio e comunque fare molto, molto bene con la maglia bianco celeste tant'è che ha riconquistato la maglia della nazionale con la Lazio. Mauri, secondo me, è stato... l'acquisto di gennaio ha avuto un impatto maggiore con la Lazio. Anche lui, come Stefano Mauri, è rimasto tantissimi anni alla Lazio. Se pensate che Stefano Mauri arrivò alla Lazio nel gennaio del 2006 e l'ha lasciata dieci anni dopo nel 2016. Con la Lazio ha giocato 253 partite facendo ben 42 gol. secondo me l'apporto di Mauri alla Lazio è stato importantissimo e decisivo. L'unico rammarico che ho è che Mauri ha a fine carriera espresso il desiderio di entrare nella dirigenza bianco celeste cosa che dopo anni dal suo ritiro non è purtroppo mai successo. Ecco, secondo me questo è una piccola lacuna che Stefano Mauri non meritava. Ripeto, giocatore capitano importantissimo della Lazio secondo me meritava un posto in società visto soprattutto quanto è snella la struttura societaria. Però questi sono i miei 5 migliori acquisti invernali fatti dalla Lazio. Sei d'accordo con me? Quali sono i tuoi iscrivimenti qua sotto? E soprattutto se ti è piaciuto questo video metti un piacere e condividilo con gli amici. Grazie. 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 Grazie.